Un annullo filatelico speciale da parte di poste italiane grazie al quale la filatelia torna a Fano ed una conferenza pubblica dall'alto tasso scientifico che si terrà giovedì 17 ottobre alle 17.30 presso la fondazione Cassa di Risparmio e la stretta collaborazione tra commercianti e amministrazione con il coordinamento generale di alberghi associati che grazie al suo presidente Luciano Cecchini con tutte queste eccellenze hanno dialogato e costruito qualcosa in nome della prevenzione del carcinoma mammario nel mese dedicato appunto alla prevenzione Fano non illumina solo i monumenti in rosa ma fa informazione, corretta informazione e sensibilizzazione al tema sì perché di tumore al seno si muore sempre meno, la mortalità è meno 0,8% per anno e questo solo grazie a una diagnosi precoce il professor Cesare Magalotti di Marche Nord col suo centro opera oltre 600 donne all'anno e ci dice che con un tumore in fase 1 si guarisce nel 98% dei casi la scienza va avanti, tutto procede anche se ultimamente un pello meno però sicuramente la gente è più informata, le persone sono più informate anche se però qualche volta capita la persona che mette la testa sotto la sabbia per paura di questo percorso che l'aspetta o per varie cose e stava poi in situazioni che sono disastrose per cui veramente trovare il tumore prima possibile è fondamentale per poter guarire per cui questo che la persona della strada deve sapere qualunque sintomo, qualunque cosa, comunque poi ormai tutte le comunicazioni vengono fatte anche nel giornale che si apre dal parrucchiere per dire fatevi controllare dagli specialisti specialisti che devono essere formati e dedicati mi raccomando, guardate queste caratteristiche qua ma al centro di tutto questo rimane comunque la donna sia come paziente ma anche come donna e come persona che grazie alla breast unit viene accompagnata nel suo percorso e mai lasciata sola ognuna di loro ha le sue esigenze e la sua situazione quindi il nostro impegno è quello di prenderle per mano e accompagnarle durante il percorso quindi di non farle sentire mai da sole quindi fin dall'inizio, dal momento dove viene fatta la diagnosi al momento della fine del percorso quindi è quella di cercargli di essere la sua mano in quel momento grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti